La nostra immediata, onorevole Lollobigida, prego, su cosa desidera intervenire? No, sull'ordine dei lavori, io rinnovo al governo, senza nulla togliere alla presenza autorevole del sottosegretario e del ministro d'Inca, noi rinnoviamo formalmente la richiesta che in quest'aula il ministro boccia, che è convenuto di pietra, perché fino adesso i partiti hanno sostenuto di non poter condizionare, ed è giusto così, i presidenti di regione nello stabilire le date. Però è vero pure che noi siamo qui in questo dibattito condizionati da una conferenza delle regioni preseduta dal ministro boccia che non ci ha raccontato come stanno le cose davvero e allora venisse nel Parlamento con rispetto a raccontarci le posizioni delle regioni e a dirci su questo che tipo di volontà è stata espressa dai presidenti di regioni e su questo il Parlamento potrà adeguarsi. Quindi la richiesta formale è che alla riapertura dei lavori potremo avere in aula il ministro boccia. Sì, questa richiesta è stata avanzata ripetutamente.